Buongiorno, Ardua Play, oggi è alla sede di HP di Palo Alto per l'evento HP Imagine 2023. E qui abbiamo il nuovo HP Envy Move, che è un nuovo concetto di all-in-one e che, a differenza di all-in-one tradizionali, ha la possibilità di essere trasportato. Andiamo la maniglia e, soprattutto, questi piedini che, quando si appoggia, escono fuori e, automaticamente, quando si alza, spariscono. In più, come vedete, in questo momento il computer sta funzionando senza essere collegato alla rete elettrica perché ha una batteria che, stando alle specifiche, dovrebbe durare circa quattro ore. Questa è la tastiera con mousepad integrato e, anche qui, un'altra cosa particolare per buttarsi dietro la tastiera, c'è questa tasca sulla parte posteriore che permette di trasportarla facilmente. Quindi, poi, nel momento in cui viene riposizionato, un oggetto comunque con uno schermo di dimensioni notevoli, ha all'interno delle caratteristiche di tutto rispetto per poter funzionare sia come computer casalingo, per fare giochi, diciamo, che non hanno troppe pretese ma, comunque, che va bene per qualsiasi tipo di applicazione, anche in ambito professionale. Quindi, un concetto decisamente nuovo, interessante e, poi, quando arriverà in Italia, avremo anche modo di recensire. Siamo qui con quella che è la star di questo evento, si chiama HP Spectre Fold. Quello che può sembrare un normale notebook, invece, è un prodotto molto particolare perché la tastiera è magnetica e, di fatto, questo è un foldable, quindi con uno schermo che, nel momento in cui viene aperto completamente, si trasforma in quello che può sembrare una sorta di all-in-one con la tastiera, quindi una sorta di desktop, per la dimensione dello schermo. Schermo, chiaramente, touch, per cui io posso utilizzarlo sia con le dita che con il pennino e, poi, invece, quando non ho più bisogno o non ho lo spazio per aprire completamente lo schermo posso richiuderlo, riappoggiare la tastiera e, automaticamente, il sistema andrà a ridimensionare lo spazio utile, utilizzabile dello schermo. La tastiera ha anche una posizione intermedia in cui io la faccio scorrere più in basso. Anche in questo caso, l'area utile nello schermo viene ridimensionata e, a questo punto, posso utilizzare sia la tastiera che il touchpad, che le funzioni touch, magari inserendo nella parte bassa i miei strumenti e i miei pannelli e, nella parte più in alta, l'applicazione che sto effettivamente utilizzando. La cosa interessante, poi, è che, quando si chiude, prevede la possibilità di inserire all'interno la tastiera e, quindi, diventa un normale notebook da trasportare. Un concetto abbastanza innovativo. Lo spessore, anche quando è chiuso, è, forse, più alto rispetto a un normale ultrabook. Comunque, il peso non è eccessivo e la dimensione altrettanto. Allo stesso tempo, poi, quando invece lo apro e rimuovo la tastiera, la dimensione complessiva dello schermo è decisamente notevole. Siamo a Palo Alto, nella Silicon Valley, nella mitica sede di HP e siamo qui con Sue Richards per parlare di stampanti HP. Hey Lucio, very nice meeting you. So, today, lots of announcements and I think one of the most interesting topics was the evolution of the instant ink service. Can you please talk about it? Yeah, I can. So, from a portfolio point of view, we have the best print portfolio that we've ever had. And one of the key tenets that we have for our customers is to really be able to offer them convenience and simplicity. And we're doing that by refreshing a few key products in our portfolio today. In our low end of our product portfolio, simple, seamless printing with our new DeskJet printers, but also bringing our OfficeJet Pro innovation into our lineup. And that all of those have our instant ink capability, which offers a subscription service where ink is delivered to your door. And what we talked about today is that coming this spring, is that we will actually have a service of print all in. And what that will include is essentially the printer. It will offer that same amazing instant ink capability from ink services delivered to your door. also including our media delivered to your door as well. And then seven by 24 support. And that's coming in spring of 24 to the U.S. And it gives our customers really peace of mind to have that end to end support, the printer and all of the ink media support all in for just one price. Perfect. That's very interesting. And what are the key elements of the new OfficeJet lineup that was announced that is also coming early next year, right? So OfficeJet Pros are really the workhorse for printing from home for in this hybrid environment, if you think about it that way. So I do a ton of printing at home for office when I'm home. And our new OfficeJet Pros are really perfect for those hybrid workers. They're perfect for those small work environments that maybe have up to 15 employees. And we're really bringing new productivity features to that. So really simple, seamless setup with a new user interface, which makes it completely intuitive on how to interact with the printer and really drive workflows in your office. And we call these things shortcuts. So being able to, let's say you get home from this business trip, put your receipts on your scanner, maybe you put three or four in there, it'll separate them out and it'll be able to upload them to your QuickBooks so that you can reconcile your expense report. If you think about scanning in a book or a piece of paper, we're going to make that scan essentially turn it into text so it can be searchable so that it makes it a more functional document for whatever your workflow might be. And my favorite is really scan to email. So being able to take things like your tax documents, send them directly to your tax accountant so you don't have to think about it. All these can be really programmed in as a shortcut so that it makes your home office workflow or your office workflow super simple going forward. We're also offering an offer called Evil More and that is really enabling us to be able to offer a more sustainable cartridge option, which gives you 2x the amount of ink in the cartridge itself. So less cartridge replacements for you and the ability to recycle that directly back to HP. It comes with an envelope inside and we take care of it for you. So really one of the most sustainable options that are out there today and you'll see more of that in the showcase. Perfect. Can't wait to see that. Thanks so much. Excited. Thank you. I'll see you in the next video.